Qualcuno ha più belli 300.15, anzi passiamo qua. Sì, ma è proprio, è perfetta. 9.450 euro, ti usa subito? E diventa sprecco. Scegliere degli option, la mia sua option, ha scelto i Toyota e go. Option è seri di scegliere. A canza parla, 9.450 euro con finanziamento dei carri. Di qui 7.46, hai good. Asino, c'è un po' di posto. Sì, ma ti dobbiamo riuscire. Grazie a tutti.